Questo è il finale di Bishamon. Bishamon ha sconfitto Jedha. Ma ora guardate cosa succede in questo finale. Succede qualcosa di strano a Bishamon. Riceve questo strano potere che non so cosa sia. Ma è successo qualcosa che non ci ho capito niente. Vabbè è stato divertente lo stesso. Io vi devo salutare. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Mi raccomando fatelo per Gabri Costa che è il miglior youtuber. Spero vi stia piacendo Vampire Savior.